Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Questa frase di San Francesco riportata sui bigliettini lasciati all'ingresso racchiude perfettamente lo spirito della terra dei fioretti, un'associazione nata con l'intento di promuovere il bene sotto ogni forma. E lo fa qui, in un capannone situato in via Filippini a Bellocchi di Fano. Per due anni questi spazi sono stati utilizzati gratuitamente da un gruppo che smissa i generi alimentari a lunga conservazione, i giocattoli e l'abbigliamento da 0-18 anni, più gli abiti da donna di tutte le taglie per scambiarli, poi con le famiglie bisognose. Un progetto ambizioso portato avanti da Elisa e da tanti volontari che dedicano le ferie e il loro tempo libero a questo mercatino di beneficenza. Purtroppo però entro pochi giorni dovranno lasciare questo locale. Da qui l'appello per un altro magazzino dove spostare il materiale e rimettere subito in moto la macchina della solidarietà. Il progetto nasce circa 3-4 anni fa in Sordina perché io sono amica di una suora francescana, ho un'amicizia trentennale con lei, ha una casa famiglia che ospita donne e bambini, donne e menore in difficoltà. Quindi ho cominciato a raccogliere abbigliamento, giochi, libri, tutto quello che serve per la casa famiglia. Ma questa cosa si è poi estesa fino a che quello che raccoglievo nel mio garage non mi ci stava più. Così grazie all'aiuto di amiche, colleghe e altre mamme che si sono fidate di Elisa, di professione insegnante della scuola dell'infanzia, si è arrivati a questo capannone messo a disposizione dal titolare, nonché amico Luca. Ora però l'immobile è stato giustamente affittato, ci hanno detto, e quindi è l'associazione che deve trasferirsi, è alla ricerca di un altro locale. Noi ci adattiamo a qualsiasi tipo di cosa che ci viene offerta, va benissimo una stanza, un garage, una cantina, un capannone anche molto più piccolo di questo. Vi siete già rivolti al comune? Siamo rivolti al comune, però al momento non hanno disponibilità. Quindi dovremo insieme all'associazione che è alle mie spalle, i frati minori delle Marche e la casa famiglia San Giuseppe di Cingoli, io faccio tutto tramite loro con il loro benestare, stiamo preparando una richiesta ufficiale intestata, dove poi andremo dal sindaco per vedere se in un futuro non troppo lontano ci trova qualcosa. Però al momento, in questo momento di passaggio, siamo alla richiesta di qualcosa che ci possa aiutare. Infatti, ha proseguite Lisa, questa attività che negli anni si è allargata al nostro territorio, permette di aiutare decine di famiglie fanisi e dei comuni limitrofi, italiani e stranieri, che anche a causa del periodo difficile che stiamo vivendo si trovano in difficoltà economica. E chi può lascia un'offerta libera, oppure un detersivo, un pacco di pannolini, comunque cose che io rigiro alla casa famiglia e da qui il bene contagioso. Noi abbiamo un gruppo Facebook che si chiama il bene contagioso, dove viene documentato tutto, quindi nella massima trasparenza, le persone che donano vedono che io direttamente do in mano la casa famiglia. Quindi, nella casa famiglia ci sono ospiti, c'è un'utenza che saltuariamente cambia. Quindi, quello che a loro serve, io glielo do in mano. Quello che a loro al momento non serve, viene appunto scambiato o venduto o addirittura dato anche gratuitamente a famiglie nostre e il ricavato viene girato a loro.